Salve ragazzi, io sono Painemaster e questo è The Ship Remastered E già la prima impressione è ottima perché hanno mantenuto la musica del vecchio The Ship E questo non può che farmi piacere perché io questa musica la adoro Il gioco è uscito già da un po' di tempo Ma ho voluto aspettare prima di fare questo video perché volevo che ci fossero più giocatori Che la community fosse un po' più grande E soprattutto che il gioco fosse più completo possibile Perché come sicuramente vi sarete accorti dalla scritta che campeggia in basso a destra Questo gioco non è ancora completo Perché nonostante il nome questa non è una rimasterizzazione Ma è un vero e proprio remake del vecchio The Ship Che ho già trattato in precedenza sul canale E anzi vi consiglio vivamente di vedere il mio precedente video Perché lì spiego tutte le meccaniche di gioco E per non essere ridondante non penso che le spiegherò anche in questo La prima cosa che salta all'occhio è questa arcade mode che non c'era nella vecchia versione Che alla fine penso si tratti semplicemente del single player Perché vedete si possono impostare tutte le cose per poter giocare da solo E nella vecchia versione single player invece era un launcher separato Non era nel menu principale del gioco Queste sono le mappe presenti Quelle che vedete in grigio non sono ancora state implementate E purtroppo per mio grandissimo dispiacere non c'è ancora Raifukumaru Che è la mia mappa preferita Perché stranamente nonostante questo gioco si intitoli The Ship Le mappe che io preferisco di più sono quelle che non sono ambientate in una nave Ma andiamo direttamente in gioco e vediamo un po' che cosa è migliorato Alla fine ho dovuto ripiegare su single player Perché tutte le persone che sono online in questo momento Stanno giocando la modalità deathmatch Che non è quella che voglio mostrarvi in questo video Perché la modalità deathmatch si limita semplicemente al Raccogli le armi e usale per sbarazzarti di tutti gli altri giocatori Che è divertente Anzi è molto bello il fatto che questo gioco non si limiti ad una sola modalità Ma ne abbia molte Solo che quella che penso sia il fulcro principale del gioco È la modalità hunt Che è quella dove noi abbiamo un obiettivo che dobbiamo uccidere Ma al contempo siamo noi l'obiettivo di qualcun altro E quindi dobbiamo difenderci e allo stesso tempo riuscire ad uccidere la nostra vittima Per fare più punti possibili L'arma che abbiamo equipaggiato ci dice quanti punti faremo con l'uccisione In base a quanti soldi guadagneremo E anzi trovo fantastico il fatto che adesso si vede proprio dall'arma Ma prima bisognava guardare una lista che Adesso si c'è ancora la lista di quali sono le armi che valgono di più Però è bellissimo vedere che adesso si vede in basso a destra E tra l'altro l'HUD è stato rimodernizzato È molto bello adesso Parliamo subito con le persone per capire chi sono Perché il nostro obiettivo è questa Loretta Quindi dobbiamo andare a cercare Loretta Bellissimo ma mi vedo io Vedo le gambe del personaggio Penso di essere una donna Sì esatto però Questi occhiali e questo turbante sono terribili E ho anche il vestito elegante Guardate si vede il volpino Il volpino che ho addosso Bellissimo Vediamo se mi cambio di abito Ah c'è anche una katana Questa può essermi utile Sì si vede È fantastico Ah tra l'altro devo andare assolutamente A sbarazzarmi della mia vittima Non ricordavo ci fosse lo sprint Ora che ci penso Ah questa è Loretta Però c'è qua la guardia Allontanati dalla guardia Allontanati Ok me ne sono sbarazzato È stato più facile del previsto trovarla Sbarazziamoci un po' di tutto E anche dell'arma che ho usato Perché ormai non vale più niente Perché non si possono fare più kill Con la stessa arma Perché dopo un po' il valore scende Questa vale molto Utilizzerò questa e poi la katana La pistola e il coltello Perfetto Direi di chiudermi dentro per Non posso chiudermi dentro Questa cosa non mi piace Adesso non si possono più chiudere e aprire le porte Prima nel vecchio de ship Si poteva aprire e chiudere le porte Questo serviva perché Mi chiudevo in una stanza E così Vedevo un po' le armi che avevo Perché Se no mi vedevano Mentre tenevo fuori delle armi Perché se no farmi vedere Mentre sfoderavo le mie armi Non era molto vantaggioso E quindi Wow Questo non c'era prima Penso che lo userò per primo Che ad esempio Passa qualcuno Vede che sto puntando una pistola O un fucile Non è una cosa bella Però non posso più chiudere la porta E questo Non è una cosa che mi piace Devo uccidere Mario Ney C'è l'occhio della guardia Ah c'era una telecamera C'è una telecamera in questo corridoio Sei tu Sei tu Che fortuna oggi In questa partita Scendi giù Che non voglio farmi beccare dalla guardia Scendi No 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 Non scappare Non scappare È infame E quanti colpi ho dovuto spararti Per ucciderti Prenderò il tuo cappello Ah no È solo maschile Volevo usarlo come trofeo Vabbè Il fucile non mi serve più Lo lascio a te La prossima la faccio con la pistola Bello il panorama E l'acqua è in movimento Si vede che stiamo in una crociera Una crociera con omicidi Ma pur sempre una crociera Che cos'è questo? Ah ok Sono gli alimenti E le bevande Per i nostri bisogni Che tra l'altro Non sto tenendo sotto controllo No non era questo tasto Ah ok Il sonno è A livelli troppo elevati Meglio che mi riposo Si ma dovrei andare a dormire Non dovrei sdraiarmi a caso Ah si me lo sta già dicendo Tra l'altro E dove lo trovo adesso un letto? Ah no Non ho trovato un letto in tempo E il personaggio ha finito per addormentarsi in piedi Questa è la cucina Magari ci trovo qualcosa di utile Quanto vale una padella? Vale un sacco Ucciderò qualcuno con la padella Ha di nuovo sonno? A quanto pare dormire in piedi Non è abbastanza riposante Chi sei tu? Si sei tu Devo ucciderti a padellate No No Mi sono fatto beccare E mi hanno arrestato Ed ero pieno di armi Quindi starò 46 secondi in prigione Dovrei anche avere il vestito Si ho il vestito da galeotta Almeno qui c'è un letto Finalmente potrò riposarmi Sono stato scarcerato È durata poco la mia visita in prigione Ah ok Mi accorgo ora della correlazione che c'è Tra la mia stanchezza E il fatto che sto sprintando come un pazzo Fin dall'inizio della partita Semplicemente correre ti fa stancare un sacco E poi ti addormenti in piedi Allora ho un minuto per trovarla Ed è qui Io sono qui Quindi Se negli ultimi 30 secondi Ah devo anche ricordarmi di non sprintare Perché se no mi addormento in piedi Negli ultimi 30 secondi è stata in questa zona Quindi Che vuoi tu? Vuole uccidermi? No Bene Deve essere lei Deve essere lei Sì Come faccio a ucciderti qui in bella vista? E in questo round non potrò fare niente purtroppo Perché Dolly è qui che mangia, beve Non so che cosa vuole fare La guardia è lì che mi guarda È lì in fondo Quindi non la posso uccidere E tu che vuoi? Perché mi segui? Allontanati Ah ma sei la mia prossima vittima Ti devo prendere a padellate in faccia Mi dispiace Ho dovuto farlo Mi dispiace Ah questo cos'è? Portafoglio bomba Sì è il portafoglio bomba Quello che aveva usato Adol per uccidermi nello scorso video Sali sali Non riesco C'è l'alga in mezzo Sali sull'alga Sali sull'alga No Quasi quasi lo testo Provo a buttarlo in giro a caso Magari qua No No Sono stato arrestato di nuovo A questo punto mangiamo Devo anche andare a riposarmi E devo anche andare in bagno Però non sono armato Maledizione Andiamo prima in bagno Dei uomini Non è una bella visione questa Però Ci tocca Devo uccidere Dolly E stavolta ci riuscirò Maledetta Non potrai nasconderti dalla mia ira Non ci credo È di nuovo qui Non penso che in questo remake del gioco Ci siano ancora Gli angoli bui delle guardie In cui se magari mi nascondo bene Resco a uccidere Anche se Se mi stanno guardando Però tanto vale tentare Eh no Non c'erano Qui dentro non posso entrare No Alfred Sono tutti che vogliono uccidermi Ah no Non volevano Sì no Volevano uccidermi No forse no Forse si stavano combattendo Tra di loro E io mi trovavo lì per caso Beh è stata una loro sfortuna Non è certo colpa mia Entriamo da Victorian Secret E compriamo un nuovo abitino Nel frattempo qualcuno si è suicidato Lo voglio Come non ho abbastanza soldi Allora questa vale 3850 Perfetto Questa che cos'è Questa che cos'è E' più bella questa Fantastico Dolly Maledetta Volevi uccidermi eh Ma io sono stato più veloce di te E mi prendo anche il tuo cappellino Fortuna che ho avuto la prontezza di riflessi Di ammazzarla prima che mi colpisse Adesso la fatica sarà a trovare velocemente La tizia che devo massacrare io Ah ho trovato un altro portafoglio bomba Che vuoi tu Che vuoi Stai lontana Ancora tu Dolly Un tempo nella vecchia versione Una volta che fermavi una volta Un tentativo di omicidio Poi non poteva più colpirti Perdeva l'obiettivo Invece quanto pare adesso Può colpirti di nuovo Vediamo un po' come funziona Ah questo è il detonatore Ma è bellissimo Guardate come lo hanno fatto Ah sono riuscito a colpirti Non vedo più nella mappa La mia vittima designata Quindi probabilmente ha cambiato piano Uccisa L'ho vinta Incredibilmente l'ho vinta Devo dire che in realtà È stato anche fin troppo semplice Io ho anche selezionato Difficoltà media A quanto pare avrei dovuto Partire direttamente Dalla difficoltà difficile E beh Per questa prima impressione Di questa nuova versione Di The Ship Direi che può anche essere tutto Il gioco è molto bello Hanno fatto un remake davvero molto valido Ovviamente questo non sarà l'ultimo video Che vi porterò su questo gioco Soprattutto per il fatto che Questo gioco merita molto di più Giocato in compagnia Ed è quello che farò molto probabilmente in futuro Quindi per questo video può anche essere tutto Ciao ragazzi Ci vediamo al prossimo Ciao